strumenti, però la leadership politica sì, la società civile è quello che è in Italia, l'Italia è un paese di furbacchioni e di simpaticoni, la leadership politica talvolta Quindi sei italiano? Io sono peggio, ho scritto un libro, l'Italia dei furbi, che rappresenta totalmente me stesso, furbacchioni anzi, non furbi, ma la leadership politica certe volte sembra ancora peggio, o quantomeno ha rinunciato a quella funzione di guida che invece dovrebbe assumere Spesso si cita un personaggio che è l'italiano per eccellenza Sordi, io ho l'impressione che invece sia cambiato se si dovesse disegnare il profilo dell'italiano medio, emerge molto dalla lettura delle intercettazioni telefoniche, un modo prevalente di essere italiano e anche dal fatto che noi leggiamo i testi delle intercettazioni, cioè quello che vediamo attraverso il buco della serratura è quell'italiano furbacchione che cerca l'accomodamento e ci siamo anche noi che però guardiamo dentro quel buco della serratura Ancora di più, quello che leggiamo nelle intercettazioni è quello che l'italiano vorrebbe essere, cioè sì, quando gli italiani hanno visto le escort o quando vedono le intercettazioni cavoli, fossi io al suo posto gli chiederei questo per quella piccola casetta che devo ristrutturare, avercele quelle escort Fossi io al suo posto farei altro, non solo chiederei Allora, ma non hai un atteggiamento di condanna, hai un atteggiamento quasi, noi l'abbiamo rilevato nel caso delle escort, hai un atteggiamento quasi di invidia, avercele Allora, l'italiano che tradizionalmente possiede, per via che non abbiamo avuto la riforma protestante tante cose, una morale meno rigorosa che in altri paesi, siamo più accomodanti non gli dà una risposta di no, queste sono cose che non si fanno, al contrario, avercele queste cose qui, per questo le intercettazioni provocano una reazione così a metà metà nella pubblica opinione. Ma diciamo che quindi, davvero parlandone seriamente, tutto il Papi Gate non ha danneggiato Berlusconi? No, 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 il Papi Gate forse lo sta danneggiando quest'ultima fase, ma il Papi Gate al contrario ha in qualche settore di popolazione rafforzato Berlusconi, sicuramente non lo ha danneggiato, non lo ha danneggiato. E' raccontabile in televisione questa incredibile evoluzione dell'Italia? Ma è raccontabile nell'unica maniera che l'Italia conosce, quella della commedia all'italiana, cioè oggi la politica sembra figlia della commedia all'italiana, lei ha citato prima Alberto Sordi, ma bisogna ahimè scendere dal punto di vista artistico un po' più basso ed è tutta la commedia scolacciata. Alvaro Vitali. I cinepanettoni, insomma l'Italia è, i cinepanettoni sono dei formidabili ritratti dell'Italia, che noi abbiamo ancora il pudore di leggere come qualche cosa su cui ridere eccetera, in realtà quelli sono forse il ritratto più crudo dell'Italia. quando si cerca un'immagine del buon governo in Italia, si fa una fatica enorme, poi si finisce sempre a beati i tempi in cui Luigi Einaudi invitava i suoi ospiti al Quirinale e tagliava la mezza pera, però manca una parte del discorso lì, che quell'altra mezza pera andava ad Egno Flaiano, cioè Einaudi invitava Egno Flaiano, era questo il vero sistema. Oggi non so chi va, lasciamo perdere il Quirinale, insomma perché il Quirinale guai a Quirinale. Cioè il rischio è che appunto gli ospiti non reggano il paragone con l'acume, l'ironia, l'irriverenza di Flaiano. In piccolo qui adesso ci proviamo a demistificare tutte queste cose, ma mettendola seriamente, adesso ribaltiamo il campo, come dovrebbe essere ad esempio la rappresentazione della politica in televisione? Cosa dovrebbe fare la politica per riconquistare un terreno che sia valido, di interlocuzione con l'opinione pubblica ma anche di rappresentazione di istanze che siano serie? Io non sono un esperto di televisione, però la mia idea... Però un protagonista. Sì, ma non conosco le tecniche televisive bene come voi, ma la mia idea è che bisognerebbe ripartire dai contenuti, anche se questi sono più noiosi. Se ci fosse una trasmissione sulla sanità nelle regioni, che non sia scandalistica semplicemente dicendo che la tale regione ha speso tanto o peggio, che sono cose che vanno dette, ma che esponga in modo più chiaro è possibile i problemi, le alternative possibili alla gestione della sanità, oppure dell'economia, oppure dei trasporti e se ogni volta ci si dedicasse a un tema specifico, in modo chiaro e comunicativo, ma i protagonisti stessi, i politici stessi dovrebbero entrare nel merito e non approfittare della trasmissione semplicemente per fare propaganda dicendo io lo sento a porta a porta, io ho fatto questo, no non è vero tu hai fatto quell'altro, a questo punto il telespettatore cambia canale, va su un film, credo. Ripartire dai contenuti, come si fa in tanti paesi del mondo? Questa secondo me potrebbe essere una buona strada. Meno indignazione più inchiesta. Ma sì, a parte scendendo proprio nei generi, il fatto che ad esempio nella televisione italiana non si facciano inchiesto, se ne facciano così poche, è indice che davvero è un genere temuto come… però era interessante il discorso che facevamo a Neimer sui contenuti, noi in questi ultimi anni abbiamo vissuto la più straordinaria rivoluzione nel mondo delle comunicazioni da quando esiste l'uomo, c'è stato internet, c'è stato tutto il sistema della convergenza, abbiamo visto i media trasformarsi, c'è stato un'esplosione della tecnologia come mai non c'era stato, però a un certo punto in questo sistema straordinario di comunicazione unico, che cos'è che hanno funzionato? Non la tecnologia, le cose che hanno funzionato sono i contenuti e quindi è esattamente questo il discorso che riguarda la politica, cioè se non si ritorna al concreto e si rimane sempre nell'astratto come… cioè uno dei difetti principali della cultura italiana è proprio questo, è la prevalenza dell'astratto sul concreto, noi ragioniamo sempre in termini astratti, abbiamo quasi in uggia le cose concrete eccetera, eppure sono le cose concrete che muovono il mondo, quindi se non si ritorna sulle cose concrete, se non si ritorna sui contenuti, se non si investe in quelle cose lì, siamo destinati a essere un paese che via via viene espulso dalla scena ormai mondiale della comunicazione. Parole sante, siamo in conclusione, oltre che al mare, senza dire per chi, andrà a votare professor Mannheim? Io sì, io vado sempre a votare, non riesco a farne a meno, mi piace fin da piccolo, vado a votare. Piccolo? Spero a meno da 18 anni. Anche prima votavo a scuola le elezioni del comitato scolastico, anzi mi sono anche candidato lì. Perché il professor Mannheim era fatto politica giovanile, era un contestatore, e Aldo Grasso andrà a votare? Se posso chiederlo? Ma non lo so. Anche il non voto è segreto. Anche il non voto è segreto, non sono particolarmente convinto, non so se è più importante andare a votare o in questo momento è un segno più forte non andare a votare. Manca la democrazia cristiana in Italia, si sente la mancanza? Ad alcuni sì, ai giovani no, ai giovani non sanno che c'era, ai giovani però manca la politica. Non è un caso, volevo aggiungere una cosa, che il dibattito sulle estensioni sia così forte in questi giorni, perché la tentazione che ha Aldo Grasso ce l'hanno in tanti. E manca Giuliano Ferrara in televisione? Sì, manca, manca Giuliano Ferrara, manca Enrico Mentana, mancano persone che sanno fare la televisione. Va bene, secondo me nessuno è indispensabile, l'ho sempre detto, e penso che è una brutta democrazia quella che qui si dice che c'è la libertà. Indispensabile no, ma se c'è è meglio, utile. Utile, è utile soprattutto che torni porta a porta per un unico accessorio così importante. Tornerà, tornerà, tornerà. È come l'autunno, è come le stagioni. Allora, grazie a Renato Mannheimer, grazie a Aldo Grasso, grazie a voi. Lunedì ci sono Alemanno e Rutelli che si scontrano, che non si vedono da quando, come si sa, si contesero la poltrona di sindaco di Roma, vinse Alemanno, ma qui si fronteggiano ovviamente sulla situazione politica generale nel sest'ultimo giorno prima delle elezioni. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.